L'allarme era stato lanciato nel gennaio scorso dal presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Non si conoscono progetti e fonti di finanziamento. In una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, il governatore aveva messo nero su bianco i suoi timori. L'opera completa costerà 22,8 miliardi di euro. L'obiettivo è di portare i treni a viaggiare a 300 chilometri orari. La Calabria non può aspettare che nel suo territorio siano genericamente assegnati e bloccati fondi per opere per le quali la prima fattura a lavori da pagare sarà probabilmente nel 2031, scritto il governatore, con particolare riferimento alle infrastrutture da finanziare con le risorse del PNRR. Apprendo che ultimamente, osserva Occhiuto, presso il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è iniziata la presentazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e della bretella di connessione che da battipaglia arriva fino a potenza. Questo non tranquillizza la Regione per l'assenza nella proposta presentata del progetto integrale che da battipaglia arriva a Reggio Calabria. Apprendo che nella presentazione dei lotti che interessano la mia Regione non è emersa alcuna caratteristica tecnica dell'opera, ma sono solo emersi riferimenti legati al tipo di finanziamento. In particolare è stato precisato che il finanziamento di 9,4 miliardi graverà su generiche fonti finanziarie. Occhiuto sottolineava che per quanto riguarda i tempi di attuazione, l'orizzonte temporale si attesta al 2030, dunque oltre il termine stabilito per l'impiego dei fondi del PNRR fissati per il 2026. Al momento rilevava il Presidente della Regione Calabria nella lettera a Draghi, non è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica fino a Praia e nulla, è stato presentato sulle tratte tutte nel territorio calabrese. L'unico riferimento è stato al finanziamento a Valere per complessivi 9,4 miliardi su non meglio specificate fonti di finanziamento. Sono 2063 i nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore, lasso di tempo in cui si sono registrate altre 6 vittime, 2.491 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività scende lievamente passando dalla 22,33 al 20,19%, in calo nel saldo tra ingressi ed uscite i ricoverati in area medica meno 6, mentre cresce di uno quell'intera più intensiva. La Regione Calabria è pronta alla distribuzione del farmaco Paxlovid, l'antivirale orale indicato nel trattamento degli adulti che non necessitano di ossigenoterapia e che sono a rischio di progressione a Covid di grado severo. Mercoledì scorso l'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato i medici di famiglia a prescrivere questa medicina che fino a questo momento poteva essere indicata solo da alcuni centri appositamente individuati dalla Regione. Si tratta di una buona notizia, ha affermato il Presidente della Regione Roberto Chiuto che va nella giusta direzione del rafforzamento delle cure domiciliari. Grazie alle nuove indicazioni questo tipo di cure sarà molto più semplice e capillare con il contributo determinante dei medici di medicina generale. Migliorare le condizioni igieniche e di sicurezza e di lavoro dei pescatori calapresi, nonché la qualità e la salubrità dei prodotti ittici. E' questo l'obiettivo del bando Feampi in relazione alla misura 1.32, salute e sicurezza. Abbiamo stanziato 150 mila euro in questo bando che è della misura 1.32, sono per ora state selezionate le prime sei, ci sono altre aziende in attesa, stanzieremo altre risorse per fare lo scorrimento della gradatoria. Credo che avremo nelle prossime settimane, autorizzati dall'autorità di gestione del settore pesca, la digipesca nazionale, avremo buone notizie anche per gli altri che si trovano nella gradatoria, per cui credo che riusciremo ad attuare lo scorrimento. Non sarà facile, nei risultati saranno raggiunti in tempi brevi, però c'è da registrare la forte presa di posizione del Presidente Occhiuto per quanto riguarda la salute del mare calabrese. L'ordinanza che ha firmato per lo smaltimento dei fanghi dagli impianti di depurazione nella conferma, un problema tavico che fu affrontato nel 2006 dalla Giunta Loiero, per un breve periodo ci sorprende che qualche luminare se ne sia accorto solo oggi, lo afferma il Presidente di Alleanza Ecologica Diego Tommasi. Da solo, prosegue Tommasi, questo provvedimento però non basta, va bene la pulizia dei fiumi che sfociano al mare ma occorre una strategia complessiva. Secondo noi il sistema depurativo è carente, soprattutto nelle aree interne della Calabria, pertanto si rende necessario un intervento di bonifica dei bacini idrografici opportunamente individuati e delimitati. Oggi in tutti i mondi si celebra la giornata per la sicurezza e la salute sul lavoro, due condizioni che in Italia purtroppo risultano ancora quasi del tutto inapplicate, se è vero come è vero che si continuano a contare più di mille vittime sul lavoro ogni anno, quasi tre al giorno e qualche centinaio di migliaia di infortuni. Lo dichiare in un video Simone Celebre, segretario generale della Filea CGL Calabria. La giornata di oggi ha l'obiettivo quindi di richiamare l'attenzione mondiale su una strage che purtroppo è diventata inaccettabile. Ognuno di noi di fronte a questa strage ha il compito e il dovere di provare a mettere fine. Lo devono fare la politica, lo dobbiamo fare noi come organizzazioni sindacali, lo devo fare tutto il mondo che su questo fenomeno può dare assolutamente una mano. Noi come sindacato a livello unitario abbiamo fatto delle proposte e continueremo a fare le nostre battaglie affinché queste proposte possano essere al più presto presi in atto dalla politica. Parliamo per esempio della patenti a punti a quelle imprese che rispettano le regole sulla sicurezza, vogliamo che venga introdotto l'omicidio colposo sul lavoro così come è stato fatto per quello stradale. Condizioni queste necessarie affinché veramente questa giornata possa essere ricordata nel futuro come una giornata non di morte ma una giornata per ripartire e ripartire tutti in sicurezza. Nuovo svarco di migranti a Roccella Ionica nella Locride dopo i 71 profughi di varie nazionalità giunti domenica scorsa dopo un'operazione di soccorso della Guardia Costiera al largo delle coste ioniche della Calabria. Sono giunti circa 180 migranti di varie nazionalità ma in prevalenza libanesi, palestinesi e siriani, tra loro anche 40 donne e una cinquantina di minori tra cui una ventina con meno di sei anni di età. Anche in questo caso lo sbarco ha fatto seguito ad una operazione di salvataggio compiuta a largo di bianco dai militari del Roan di Vibo a Valencia e dai finanzieri della sezione navale delle fiamme gialle di Roccella Ionica. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine sul caso della donna di 79 anni, Rosa Macchione, nativa di Scandale, deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, mentre era in attesa di essere visitata. La donna era giunta al nosocomio con un'ambulanza che l'aveva prelevata a scandale dopo che si era sentita male. La stessa ambulanza sarebbe arrivata con notevole ritardo, stando a quanto ha dichiarato il marito della donna ai carabinieri. Il sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, Andrea Corvino, ha disposto l'autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso. Del caso si è occupato il deputato di Alternativa Francesco Sappia, componente della Commissione Sanità, che ha interrogato il Ministro della Salute, cui ha chiesto la verifica, tramite ispettori ministeriali, dei fatti dello Stato e dell'organizzazione nel territorio crotonese dei servizi pubblici di emergenza-urgenza. Secondo il parlamentare, la dignità delle persone non può essere graduata sulla scorta dell'età. Soprattutto Sappia ritiene che il caso, passato sotto la lente di ingrandimento della Procura di Crotone, vada approfondito anche in sede ministeriale, del tutto a prescindere dall'accertamento in corso di eventuali responsabilità penali. Per il deputato, qui si tratta di capire come funzionano il 118 e il pronto soccorso che servono l'utenza della provincia di Crotone e quali sono le vere criticità del relativo sistema dell'emergenza-urgenza da risolvere senza ulteriori indugi con investimenti e provvedimenti adeguati. Nei giorni scorsi un nuovo appuntamento nell'ambito delle attività di orientamento poste in essere dall'Istituto Tecnico-Tecnologico Bruno Chimiri di Catanzaro all'interno della rassegna Tecnologie e Progresso. Martedì 26 aprile gli studenti hanno avuto l'opportunità di incontrare in videoconferenza dalla California il professore Mauro Ferrari, pioniere nel settore delle tecnologie biomediche, nano e microscopiche. Tra i massimi esperti di nanomedicina, docente nelle università degli Stati Uniti, nonché presidente e amministratore delegato della Houston Methodic Research e presidente onorario dell'Accademia delle Nanoscienze. Con sede a Gagliato in provincia di Catanzaro, il professore Ferrari ha parlato agli studenti delle sue esperienze europee e statunitensi nel campo delle nanotecnologie. Sì, devo dire molto sinceramente, senza enfasi e senza retorica, che è stato un incontro veramente straordinario. Sono stata onorata di fare un po' da moderatrice per questo incontro, visto lo spessore di questa personalità davvero eccelsa. Sono stata felice, e felice perché ci saranno sicuramente delle ripercussioni positive per i nostri studenti. Sono adolescenti, quindi in via di formazione. La vita e i consigli, gli studi che ha fatto Mauro Ferrari possono senz'altro essere una fonte di ispirazione per i nostri ragazzi. E poi sono commossa perché ho conosciuto un po' anche le sue vicende personali. È partito da un grande dolore, e da questo dolore lui ha deciso di donarsi agli altri. E poi alla fine abbiamo espresso veramente la gratitudine perché ci ha regalato un po' più di un'ora di conversazione. I ragazzi erano tutti molto attenti, in presenza solo una classe per via del Covid, ma oltre un centinaio poi in collegamento da remoto. Quindi siamo riusciti a raggiungere, me lo auguro, tante menti e tanti cuori. Il professore Ferrari viene definito come il gigante delle nanotecnologie. Nanotecnologie, tanto per intenderci, per capire, ci riferiamo a dei materiali che hanno delle dimensioni nanometriche, cioè sono uno per dieci alla meno nove metri. Quindi stiamo parlando di sostanze piccolissime che potrebbero avere una grandissima valenza nel campo medico, nel campo farmacologico e nella cura dei tumori, per esempio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS